e allora vedete le mie linguine con le cozze sono pronte buonissime hanno un profumo buonissimo di origano aglio adesso le vado a impiattare così devono uscire e allora adesso impiattiamo ti prendi quando sei di sotto e allora questa è pronta impiattiamo vedete che buona ecco qua guardate che bontà adesso ci spolveriamo un po di di prezzemolo ci mettiamo due belle cozze così ragazzi che ve lo dico a fare che ve lo dico a fare linguine con le cozze mi raccomando iscrivetevi sul mio canale youtube francusa bortone ciao a tutti dalla cucina rossa di francusa ciao ragazze